Il pubblicamento è un atto di destrazione. E' una festa, vedo la partecipazione, gli applausi del pubblico, insomma questa manifestazione si mantiene come negli scorsi anni un appuntamento prestigioso e importante per la nostra società che confirma di essere appunto un appuntamento col film di qualità. Allora presto per i miei figli a Kenya, Tanki, Somaro e Antonio Luiz. La piccola di Salvatore D'Avila, che è iniziato a venire. Non posso più ringraziare l'appoglienza al festival, è stata veramente bellissima. Grazie. 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 Grazie.